E' una questione di sicurezza e salute pubblica. E' tempo di commissariare il comune di Torre del Greco. Non usano mezzi termini Luca Lini e Salvatore Quirino, rispettivamente commissario cittadino e coordinatore del Miglio d'Oro di Fratelli d'Italia sull'emergenza rifiuti in città. Un duro atto d'accusa nei confronti dell'amministrazione Palomba. E di lunedì si ripete il solito copione con strade invase da rifiuti di ogni genere e cumuli non raccolti. La beffa per i torresi che vivono ormai con mucchi di rifiuti per le strade è che il comune ha già aumentato la Tari e non mi sorprenderebbe se si apprestasse ad alzare ulteriormente le tasse. E ora che il popolo di Torre ritrovi il suo orgoglio, afferma il coordinatore del Miglio d'Oro di Fratelli d'Italia, Salvatore Quirino. Dopo che si è perso il conto degli assessori che hanno ricoperto l'incarico all'ambiente e dopo lo scaricare le responsabilità soltanto sulla ditta da parte di questa amministrazione comunale, possiamo certificare, oltre al suo fallimento, che siamo in piena emergenza rifiuti a Torre del Greco. Quirino insieme al commissario cittadino Luca Lini incalzano e parlano che ormai tempo di commissariare il comune. Ormai è una questione di sicurezza e salute pubblica, non possiamo attendere oltre.